Dai, dai, rapide, 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 se braccia strette, le pance, via, 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 vai, 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 forza, 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 forza. Dai, 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 controlla la pancia, pronte, spingo, via! Pronte, posizione perfetta, testina dentro, sedere stretto, via! Dai, 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 dai. Braccia tese, braccia tese. Vai Angie, sedere stretto, gambe tese, sedere stretto, relevé e giro, veloce, senza spostare i piedi. Brava, vai, via, braccia dietro all'arrivo, Bianca è un po' più dura, Giulia alza la testa, vai, stretto, vai, pese le gambette, vai. Hop, hop, dura, dai, brava, vai di nuovo, vai sere, brava, vai, brava, l'ultimo, allora, via, dura, vai, fai quello per me, sì, sì. Vai, mi raccomando tutto qui, senza girare, brava, vai. Vai! 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 Vai!